Abbiamo promosso una iniziativa forte nel Parlamento europeo insieme ad altri parlamentari perché il tema del dolore cronico nelle persone più anziane possa avere delle risposte adeguate anche in sede europea. Il dolore cronico è un tema che va sempre più allargandosi, si amplia la popolazione anziana, per fortuna noi andiamo oltre gli 80 anni di vita media e quindi il dolore legato all'oncologia ma anche il dolore legato non a patologie oncologiche merita maggiori risposte in termini di risposte terapeutiche, in termini di farmaci, in termini di assistenza ospedaliera, insomma bisogna acquisire la centralità di questo tema ed è per questo che abbiamo fatto una dichiarazione scritta, io sono stato uno tra i promotori e porteremo avanti questa iniziativa come tutte le iniziative che riguardano le persone, l'Europa deve smetterla di pensare solo alle banche e la finanza deve essere innanzitutto amica delle persone.